Salve, mi chiamo Patrizio Rosini e insegno tecniche di prelevo delle matrici ambientali e analisi e valutazione del rischio nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e di lavoro conosciuto con l'acronimo di TEPAL. È una laurea di primo livello professionalizzante della durata di tre anni, appartiene alle lauree delle professioni sanitarie e pertanto è ad accesso programmato. Per potersi iscrivere è necessario superare la selezione nazionale che di norma si svolge nel mese di settembre di ogni anno. Le lezioni si svolgono presso la scuola interdipartimentale di medicina e chirurgia di Perugia. La frequenza alle lezioni, così come ai tirocini curricolari, alle attività pratiche e alle attività di laboratorio sono obbligatorie. Dunque, il corso ha l'obiettivo di fornire attraverso le discipline teoriche e le attività pratiche previste dal piano degli studi una forma mentale e un metodo scientifico nel sapere interpretare le relazioni esistenti tra l'ambiente e l'uomo per poter intervenire e ridurre gli effetti nocivi che si possono creare. Attraverso l'individuazione delle cause e la rilevazione sul campo di fattori di rischio vengono messe in atto azioni correttive e di miglioramento per poi verificare l'efficacia di queste azioni correttive ed eventualmente predisporre attività di monitoraggio e di sorveglianza. In definitiva questa è una professione che si svolge prevalentemente sul campo, potremmo definirla poco statica e molto dinamica. Il corso di studio è consigliato in particolare a quegli studenti che hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente e la salute delle persone con la propensione a fornire un contributo sociale molto importante attraverso l'attività di prevenzione, di verifica, di controllo dell'ambiente naturale, degli ambienti di vita, dei luoghi di lavoro, delle produzioni zootecniche, delle produzioni agricole, della sanabilità degli alimenti nell'intera filiera alimentare e dove se ne presentasse la necessità in relazione ai nuovi bisogni di salute espressi dalla popolazione o identificati dalla ricerca scientifica. L'obiettivo professionale è comunque quello di tutelare la salute delle persone e la sostenibilità ambientale dalle attività umane e dalle innovazioni tecnologiche e quindi di promuovere stili di vita sani per contribuire a determinare condizioni favorevoli allo sviluppo del benessere nella vita quotidiana di tutti noi. Infatti il concetto di salute consolidatosi nella realtà scientifica non è solo l'assenza di malattie ma in realtà è una condizione di equilibrio dinamico mentale, fisico e sociale integrato e inserito nel contesto ambientale sostenibile e quindi favorevole. Lo studente pertanto deve avere interesse e curiosità nello studio delle discipline scientifiche pure come la fisica, la chimica ma anche la biologia e anche tecniche come quelle dell'ingegneria correlate con quelle umane e quelle sociali per sviluppare la capacità di mettersi in relazione con le collettività strutturando anche percorsi di informazione e formazione di educazione sanitaria e di promozione della salute. Il lavorato TEPAL con le conoscenze e le competenze acquisite attraverso il percorso formativo può esercitare la professione in regime di lavoro dipendente nel settore pubblico e in quello privato. In quello pubblico nei servizi territori di sanità pubblica, di prevenzione e sicurezza nei loghi di lavoro, di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare che afferiscono al Dipartimento di Prevenzione delle unità sanitarie locali ma anche nei servizi ambiente dei comuni, nelle aree ambiente e salute della regione così come nelle articolazioni tematiche territoriali delle ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, mentre nel settore privato trova una maggiore collocazione come responsabile del servizio prevenzione e protezione istituito presso le attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi. Oramai in tutte le organizzazioni lavorative per legge il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori dipendenti per quanto riguarda le malattie professionali e gli infortuni. Ma il TEPA può esercitare anche la libera professione e fare anche consulenza negli ambiti della sicurezza alimentare, in quella della prevenzione ambientale, della sicurezza e della salute nei loghi di lavoro ma anche nella formazione specifica in questi ambiti, nella ricerca applicata e nella gestione del rischio nelle condizioni normali e anche nelle condizioni di emergenza. Il corso di laurea è professionalizzante e pertanto al titolo accademico associa l'abilitazione all'esercizio professionale prelaurea, vale a dire che lo studente terminato il percorso formativo previsto dal piano degli studi deve sostenere due prove finali. La prima è l'esame di stato di abilitazione professionale attraverso la quale deve dimostrare di aver raggiunto il livello base per esercitare la professione, superata la quale il candidato deve discutere la propria tesi di laurea e ottenere, conseguire il meritato titolo. A questo punto è obbligatoria l'iscrizione al largo professionale stabilito per legge e attraverso il quale può esercitare la professione in qualsiasi forma giuridica. La formazione continua, in particolare con i master universitari di primo livello che sono delle specializzazioni in determinati ambiti culturali e professionali determinati da una richiesta dell'offerta occupazionale per il primo ingresso nel lavoro o anche da una necessità di approfondimento quando il soggetto già sta lavorando. Un esempio di master accessibili a questa figura è anche nel nostro Ateneo, è attivo un master sulla pianificazione e gestione integrata per quanto riguarda nell'ambito della promozione della salute delle comunità, quindi particolarmente adatto a questa professione. Oppure può iscriversi alla laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. La laurea di secondo livello è indispensabile qualora gli obiettivi lavorativi del neolaureato fossero orientati verso la ricerca e la didattica universitaria o per concorrere a incarichi menageriali in strutture orienti pubblici. La laurea magistrale consente a sua volta l'iscrizione ai master di secondo livello all'accesso ai dottorati di ricerca e ai diplomi di specializzazione. Grazie al programma europeo Erasmus Plus Trenishi gli studenti possono effettuare un periodo di tirocinio presso enti o aziende all'estero. L'Ateneo nel mese di giugno di ogni anno emette un bando per la selezione degli studenti ammessi al finanziamento europeo. In tutti i passaggi lo studente interessato è sostenuto da un docente di dipartimento delegato Erasmus. L'attività didattica per erede sin dal primo anno e con diversi insegnamenti caratterizzanti alla professione, esperienze pratiche e di rilevamento sul campo in ambienti naturali presso impianti tecnologici e attività produttive. Come esempio abbiamo il lago Trasimeno e come esperienza è la verifica della qualità delle acque anche per quanto riguarda la bagnazione. Altre esperienze possono essere fatte presso il termo valorizzatore o presso la riscarica dei rifiuti urbani o anche presso impianti acquedottistici. Altre esperienze possono essere fatte all'interno del laboratorio didattico ambientale del corte dove troviamo strumenti tecnico scientifici con i quali possiamo simulare e riprodurre le rilevazioni sul campo. Un esempio è quello della misurazione di rumore e o altri la misurazione delle concentrazioni in atmosfera degli inquinari. Ma ci sono anche altri laboratori che afferiscono alla scuola interdipartimentale di medicina e chirurgia nei quali gli studenti possono svolgere esperienze di altra natura. Inoltre le modalità didattiche integrate nella maggior parte degli insegnamenti che sono orientate nell'elaborazione dei lavori di gruppo, nell'attività di ricerca e di approfondimento per l'elaborazione poi di lavori che possono essere discussi in plenaria con il docente, il titolare del modo, l'insegnamento e con esperti esterni. Questo con l'obiettivo essenzialmente di favorire e consolidare l'apprendimento dei principi teorici proposti a lezione con la loro applicazione pratica utilizzando il metodo e lo svolgimento sistematico dell'analisi delle cause per l'individuazione delle soluzioni. Ci sono inoltre lavoratori professionalizzanti, uno per ogni anno, attraverso i quali vengono sviluppate le conoscenze professionali relative proprio all'esercizio professionale. In genere sono di preparazione ai tirocini e poi dal ritorno ai tirocini sono quello di consolidamento sistematico delle esperienze fatte appunto nelle ore di tirocini. Il tirocini in questo corso di studi professionalizzante ha un peso formativo ed educativo notevole e rappresenta un terzo dell'intero impegno didattico. Vale a dire dei 180 CFU, crediti formativi universitari, 60 sono dedicati al tirocini. È suddiviso nei tre anni, è curriculare e obbligatorio e si svolge presso enti come la USL, Unità Sanitaria Locale, o come l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'ARPA, o presso aziende private o aziende di consulenza, che sono tutte in convenzione con l'università. I periodi di tirocinio seguono un piano formativo definito e l'uso di specifici strumenti come ad esempio il diario di bordo, il portfolio e il project work. Ogni studente affiancato da un tutor professionale, in genere nello stesso profilo, formato e aggiornato periodicamente con corsi specifici sul tutorato, organizzati dal corso stesso all'interno dell'Ateneo. I periodi di tirocinio annuale si concludono con un esame di profitto curricolare, di verifica del livello di consapevolezza e autonomia professionale raggiunta dal tirocinante in relazione agli obiettivi progressivi previsti per ogni anno. La prova è sviluppata con una simulazione, casi studio, in cui lo studente deve dimostrare la padronanza raggiunta nei tre saperi fondamentali e inscindibili per questa professione, che è sanitaria, tecnica e di relazione, e cioè il sapere, quindi avere il bagaglio culturale necessario, il saper fare, avere il metodo e l'agire in maniera sistematica e il saper essere, e cioè mettersi in relazione con le collettività e con le comunità. Il superamento di questo esame è condizione necessaria per il passaggio e quindi l'iscrizione all'anno successivo di corso. La città ha una forte tradizione culturale e internazionale che la rende vivace e accogliente, quindi un luogo di incontro e di scambio multiculturale integrato con il tessuto sociale della città. In questo l'Università degli Studi di Perugia, uno dei primi atenei d'Italia con più di 700 anni di storia, ha saputo mantenere alto il suo tradizionale livello di riferimento nelle eccellenze, con un processo continuo di aggiornamento e di modernizzazione nella sua offerta formativa e nella ricerca. Il CESPES, Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria, per la sua storia e per la sua peculiarità è comunque da considerare un'eccellenza di questo ateneo, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Le attività di ricerca e sperimentazione in sanità pubblica e nelle pratiche di prevenzione, di educazione e di di prevenzione della salute, svolta insieme a partner istituzionali come la Regione, la Provincia, il Comune, l'ASL e altre associazioni, rappresenta un laboratorio sperimentale permanente. È un valore aggiunto e qualificante per questo corso di studi. Salve a tutti, sono Giacomo Gentili e frequento il terzo anno del corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Consiglio l'iscrizione a questo corso di laurea a coloro che hanno un particolare interesse verso il tema della prevenzione, che sia esso nella vita di tutti i giorni o nell'ambiente lavorativo. Inoltre, possedere una particolare prevenzione alla collaborazione è sicuramente utile all'interno di questo corso di laurea. Questo corso di laurea parte con il trattare materie di tipo basilare, proprietario tipo, materie come fisica, chimica, biologia, biochimica, tutte materie che servono a fondare delle basi solide per poter affrontare poi nel corso degli anni, in maniera ottimale, delle materie molto più specifiche e caratteristiche del corso, come possono essere quelle materie che riguardano la valutazione del rischio, il campionamento, lo studio delle matrici ambientali, delle materie di questo tipo. Data la natura scientifica del corso, possedere delle conoscenze di base in fisica, biologia, chimica aiuteranno lo studente ad affrontare in maniera brillante l'avvio all'interno dell'indirizzo. Certo è che il corso, comunque sia, si propone di far arrivare. Ogni studente ha pari livelli di conoscenze in materie scientifiche, quindi nell'eventualità in cui non conosceste o comunque non aveste tali conoscenze di base, potete stare tranquilli. La difficoltà è relativa. Ciò che è certo è che il corso richiede dedizione, in quanto è a frequenza obbligatoria, ciò significa che ogni studente dovrà frequentare almeno il 75% delle edizioni per poter sostenere gli esami. Questi ultimi sono, per la maggior parte, a carattere scritto, cosa che vale in parte anche per il tirocinio. Il tirocinio è un'attività che viene svolta al termine di un livello accademico e prevederà anch'esso un esame finale. Per quanto riguarda le ore di studio, queste sicuramente sono variabili in base al periodo in cui ci si trova. Durante la sessione di esami le ore di studio possono andare e arrivare fino a otto ore, nove ore al giorno, mentre durante il periodo delle lezioni sarà sicuramente più esiguo, in quanto le lezioni porteranno via la maggior parte del tempo, quindi arrivare a un'ora, due ore al giorno durante il periodo delle lezioni sarà un buon risultato. Sì, la mia vita da quando sono iscritta è sicuramente cambiata, ci sono degli aspetti positivi, come il fatto appunto di aver acquisito una maggiore organizzazione, una maggiore autonomia. Nell'ambito dell'università ho conosciuto anche nuove persone, ho fatto nuove amicizie, quindi ho aumentato la mia capacità relazionale. Certo che in questo periodo bisogna essere bravi a organizzarsi con il tempo, quindi ore di lezione, ore di studio, ma anche ovviamente impegni extra universitari. Il corso a Perugia è molto stimolante e ben strutturato. Le lezioni e soprattutto le materie sono affrontate in maniera molto dettagliata. A parer mio è un corso molto professionalizzante. L'attività che più ho a cuore è quella del tirocinio. Il tirocinio infatti identifica un periodo in cui imparare molte nozioni e sicuramente di acquisire una praticità che a lezione sicuramente non possiamo acquisire. La consapevolezza della scelta giusta a parer mio si acquisisce con il tempo, cioè significa che nel corso degli anni, affrontando quelle che sono le materie di indirizzo, saremo in grado di capire se veramente sono ciò che vogliamo andare a fare e quindi di dare una risposta a questa domanda. Essendo un corso altamente specifico, secondo me non esistono altri che possano andare a sostituirlo. Questo corso si inserisce sia all'interno delle professioni sanitarie, ma differisce da quest'ultima in quanto va a focalizzarsi in maniera importante sul tema della prevenzione, che è appunto un pilastro portante e che quindi lo differenzia appunto degli altri corsi. Ci teniamo a ricordare che questo video è stato realizzato durante l'emergenza Covid-19. Nonostante ciò, reputando fondamentale il servizio di orientamento dell'Università degli Studi di Perugia, abbiamo deciso di rioffrirlo in modalità telematica. Io vi saluto e mi auguro che alcuni di voi abbiano interesse per questo corso di laurea. Per altri approfondimenti potete visitare il sito Unipg dove troverete tante altre informazioni e video. Ciao e a presto!